realizzeremo ora una crema pasticcera gli ingredienti necessari sono latte zucchero tuorlo d'uovo panna amido di mais uniamo tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere in acciaio graduato di hot mix pro questa semplicità sarebbe impossibile con il metodo di preparazione tradizionale sulla pentola classica ma grazie al preciso controllo della temperatura questo è possibile utilizzeremo l'esclusiva tecnologia weight temperature selezionando prima la temperatura di 84 gradi centigradi e quindi la velocità di rotazione delle lame pari a 2 in questo caso utilizzeremo anche l'accessorio miscelatore raggiunta la temperatura di 84 gradi la crema pasticcera è pronta e il risultato è perfetto grazie a tutti